Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Anche Sirolo risulta tra i 20 comuni della provincia di Ancona in zona arancione e l'ingresso della Perla del Conero in questo provenimento ha colto un po' di sorpresa, a partire dal primo cittadino. Oggi questi numeri sono confortanti. Allo stato attuale abbiamo il 50% dei positivi nella fascia dell'età lavorativa 30-60 anni, mentre nella fascia di età scolare e soprattutto nella fascia degli anziani, che ci stanno molto a cuore, abbiamo dei numeri molto più bassi. La poca gente che in giro per il paese ha pareri diversi sulla zona arancione. C'è anche chi si commuove per non poter vedere i nipotini? Beh, zona arancione ancora, se vuole, fa qualche chilometro distante per prendere magari un nipote. Ero così, mi sento un po' un commosso perché ho questo nipotino e mi piace tenerlo ancora a casa. Qualche cosina c'è, però non tanto. Non è una zona ad alta arancione. Inizialmente eravamo covid free e purtroppo è arrivato anche qui, di conseguenza mi sembra giusto. Come attività purtroppo soffriamo moltissimo perché si rollo e turistica, di conseguenza per noi era fondamentale avere almeno un minimo di servizio. Penso che sia una cosa normale, visto la situazione che stiamo passando. Anomana giallo e qui a Arancione. È veramente un'ingiustizia. Non ci voleva veramente, però passeremo anche questa. Che problema c'è? Anche in questa cittadina, Perla del Conero, ci si è ormai abituati a poco movimento a causa dell'emergenza sanitaria. Tutto sommato, non fa nemmeno un certo effetto vedere le strade quasi vuote. Qui, con la bella stagione, la parola d'ordine è turismo e l'impegno di tutti è quello di adoperarsi, rispettando le regole, per tornare alla Sirolo più bella. Noi ci vogliamo preparare molto bene alla stagione estiva e vogliamo essere covid free a partire da Pasqua. Faremo tutto ciò che è possibile, che è nelle nostre forze, per far sì che questo risultato sia conseguito.